Dove siamo? Ad Ambrose Lo spot più bello di Milano E stiamo a fare un po' di rossate qua Allo spot Bene bene Sono super gripposi perché E cosa vuoi dire oggi al vlog di oggi? Oggi voglio dire che praticamente Secondo me è meglio un gelato nel culo Che un culo gelato Che foto hai visto? Quello che c'è il cancro Lui c'è il cancro figa guardalo Che bella pelata Bisogna dire una roba simile al napoletano Come te? Un gulo Pela side Io sono più leggero adesso Il pela side zi Quanto sei più leggero? Pela Cos'altro? Stai vloggando in giro Ragazzi quando partiremo per un viaggio Agli epici dei confini Questo faremo molti giorni Tutti i giorni E ci faremo le bugio Quelle lavo le tetti a pera Sul culo basso Scusateci pezzi di merda Sennò come cazzo facciamo a campare? E' tipo dateci i soldi Così viaggiamo Questa è che cosa